Ehi Rex! Che c'è? Abbiamo rubato il lavoro! Cosa? Il lavoro di chi? Il lavoro del cameraman! Ah, perfetto! Adesso siamo noi i due nuovi youtuber! Non faceva altro che video sporchi e orrendi! Adesso ci siamo noi! E siamo 3.000 volte meglio! Già, in effetti io... In effetti... Sì! Non ho più sordi! Come non hai più sordi? Eh sì, guarda! Ecco, un sordo! Che è anche una lira! Ok, vabbè! Come primo video sembra perfetto! Beh sì, sembra proprio perfetto! Ma adesso noi siamo i veri youtuber! E non lui! Capito? Sì, capito, capito! Ok, quindi al prossimo video! Ciao!